Prendiamo il pallone, prendiamolo dai Giocchi di prima, giocchi di prima Vai a stripper Stacchiamo 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 la parla lunga lo proviamo a sinistra stai là stai là si pronto via dai bravo bravi bravi benissimo bravo bene bravo dove benissimo meglio meglio amici troppo voglio la parla più veloce sulla prima giocata la parla più veloce a sinistra va a trossare Simo la parla più veloce ci riferiamo il tocco via vai dentro facciamale facciamale buona bella bravissimo bravo bravo questo è buona bravo 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 ci r Refer profesional bravo fermino buttante viso nicolas la parla più stan vabbè pitching diciamo ma hanno porto avvicinario pel Burada mercato ma cosa da f vikt Grazie a tutti. Grazie a tutti.